Che Urbagna fosse un comune ciclabile lo sapevamo già, ma da oggi anche una ciclostazione proprio qui alla stazione delle Corriere di Urbagna, chi arriva potrà trovare un servizio davvero adatto a camminare sul territorio. Sì, questo è un progetto che l'amministrazione ha voluto fortemente, è un investimento che abbiamo fatto per tutto il territorio, non solo ad Urbagna, ma potrà essere sfruttato da chi vorrà venire a visitare le nostre bellezze naturali. È un progetto che con il contributo della Regione abbiamo realizzato, questa ciclostazione che oltre alla zona di ricarica per i veicoli elettrici abbiamo anche la possibilità di avere uno spogliatoio per chi arriva da fuori per cambiarsi e un bagno che verrà usato anche ad uso pubblico. E' chiaramente come dicevo è un progetto che riguarda tutto il territorio, non solo Urbagna e noi diamo questo servizio in più da oggi a tutti gli sportivi che vorranno venire a visitarci e a vedere le nostre belle colline qui della nostra zona. Un servizio per un territorio che si presta così bene al bike, agli amanti della bicicletta e quindi un servizio che dobbiamo dire ci voleva in questo contesto. Sì, è un servizio importante grazie alla Regione e soprattutto al Comune di Urbagna che sono riusciti a fare questo punto e-bike di livello, veramente di livello. L'Unione Montana è contenta di questo servizio anche perché Urbagna come inizio e centro dell'Alta Valle del Metauro ha dei bellissimi sentieri come tutta l'Alta Valle del Metauro e ci portiamo come territorio ciclo turistico e a breve uscirà anche un percorso dell'Alta Valle del Metauro e della Val del Foglia proprio per il ciclo turismo. Questo è importante appunto per il nostro territorio, per tutta l'Alta Valle del Metauro e per il turismo dell'Alta Valle del Metauro. La Regione Marche ha accolto il progetto presentato dal Comune di Urbagna? Questo progetto e questo contributo è arrivato a questo Comune, è l'unico contributo che ha dato la Regione Marche su questa tipologia di progetti, questi bike point, questa realizzazione di queste aree che vanno ad attressare in qualche modo anche questo bellissimo sport che è il ciclismo, è l'unico finanziato della provincia di Pesaro, sono 19 i progetti finanziati, questo è l'unico finanziato nella provincia di Pesaro al diciottesimo posto. Io sono molto molto contento e orgoglioso del progetto presentato e del relativo finanziamento che la Regione ha dato. L'architetto Sonia Pieri ha elaborato il progetto? Sì sicuramente, è il tradunione di questo luogo che è a ridosso anche del centro storico cittadino che si apre all'accoglienza perché è un bel parcheggio, perché come ha detto lei è un arrivo delle corriere, perché accoglie i camperisti e questo secondo me è stato un progetto che ha chiuso il circhio nell'accoglienza che il Comune dà al turista. Beh, devo dire che in questi anni mi sono sempre battuto per promuovere il cicloturismo e tutto quello che erano le piste ciclabili, ma anche iniziative come queste che prevedono dei punti proprio dedicati. In questo caso questo qui urbaglio è veramente ben fatto, perché oltre ad avere dei punti per la bicicletta c'è anche un bagno dove c'è anche la possibilità di fare la doccia. Io credo che lo sviluppo dell'entroterra debba passare anche attraverso lo sviluppo della mobilità ciclabile, perché ritengo che sia fondamentale. Chi va in bicicletta è un ciclista che generalmente ha risorse economiche importanti, è importante riuscire a portare le tante persone che vanno in bicicletta, che vivono lungo la costa, che vengono in vacanza lungo la costa verso l'entroterra, ed è per quello che insisto molto per realizzare quelle che vengono chiamate le leciclovie, che consentiranno di realizzare e di collegare direttamente la costa con l'entroterra. Penso che la nostra vallata sia una vallata eccezionale dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista della vivibilità ambientale. Tra Fermignano, Urbagna e Burgopace ci sono dei posti bellissimi, si sta lavorando per implementare i sentieri da fare in bicicletta, con le biciclette elettriche, con la mountain bike, ma anche a piedi. Già adesso ci sono tanti sentieri del CAI presenti nella nostra zona. Oggi qui apriamo una struttura proprio a servizio di questo turismo, una postazione dove chi va in bici può utilizzare per ricaricare la bici, per fare anche una doccia, insomma per sostare e attrezzarsi, mettere a posto la propria bici. E' una struttura a servizio del turismo e chiaramente anche dei cittadini che amano questo sport.